Per portarlo fuori dal territorio serve innanzitutto che sia un prodotto innovativo e con degli elevati standard qualitativi come è raggiunto adesso. Dopodiché servono gli strumenti, serve voglio dire il piano OCM Paesi Terzi in cui ci vengono riconosciute delle sovvenzioni per portare fuori dal punto di vista anche dell'immagine e del consumo di questo tipo di prodotto, serve portare la cultura nostra del territorio, serve vendere un pezzo anche, non vendere, comunicare un pezzo importante di territorio, di uomini, di fatiche che si tramandano di generazione in generazione con un occhio sempre costante all'innovazione.